salve a tutti buon pomeriggio amici qua siamo a montagna grande abbiamo scollinato abbiamo fatto un sentiero abbiamo tracciato la traccia con un app che si chiama weeklock che la potete andare a vedere dove praticamente potete seguire la mappa ora qui scolliniamo e andiamo verso la casa della forestale a seguito faremo un video faremo vedere la casa della forestale poi un posto bellissimo abbiamo fatto una salita molto ripida cosiddetta famosa salita ruoturgo siamo a zona mesi e neri sono le 5 sono le 17 e 34 e niente ragazzi diciamo non c'è niente di meglio che rilassarsi ok a dopo ciao eccoci qua siamo arrivati qui come vedete c'è nostra nostra santa maria vergine e qua abbiamo visto che hanno sistemato la vetrata perché ultimamente quando sono arrivato qua c'è la vetrata rotta o non si è rotta non so e ho notato con piacere che qua la sera 6 luni c'è un impianto fotovoltaico con una lampadina qua è bello venire la sera di notte io sono andato a chiesa di notte con i miei figli e ma di notte che ci viene a fare mistero della fede mistero della fede ok chissà capisce ok ragazzi continuiamo andiamo alla forestale eccoci qua è una casa della forestale ovviamente non ci abito faccio finta che mi sto svegliando adesso allora come vedete qua abbiamo un bellissimo panorama ci vedo tutta il gosso di marella che parte da un pezzo di bagheria prima fina la costa del gosso di marella qua c'è la freda roccia qua la sera pure la freda roccia mio figlio mio figlio mi sta riprendendo ciao c'è un po' di freschetto sono le 17.50 ora scendiamo vi faccio vedere un po' vieni 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 questa è la casa della forestale questa è la casa della forestale ovviamente tutti i quartieri di mare ci sono dei legname che si organizzano all'interno qui come vedete qua tutto bello tutto pulito c'è stato qualche incendio è stata scorsa però diciamo che ancora la natura qua tiene speriamo che duri molto perché purtroppo noi stiamo devastando la terra qui qua c'è il piazzale qua qua di solito veniamo anche con le bici con le mountain bike non solo trekking ma anche mountain bike quindi se veniamo qua mangiamo facciamo colazione insomma bello bello considerate che siamo oggi ci sono c'è un po' caldo c'è un po' di caldo oggi abbiamo la venticino ventisei gradi oggi è oggi è la vigina di Pasqua domani è Pasqua domani è Pasqua domani 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 ok siamo arrivati siamo al canceppo prendiamo la macchina e niente che dire ragazzi è stato un meraviglioso pomeriggio ci siamo prestati il mio figlio e vi auguro veramente buona Pasqua una buona pace a tutte le vostre famiglie ciao